Il liceo Quadri, vedo che il pubblico oggi è molto numeroso, ci sono sia studenti del liceo, ci sono anche studenti di altri istituti di Vicenza e poi c'è un folto pubblico esterno. Evidentemente il tema delle neuroscienze incuriosisce e interessa in maniera particolare. Faccio gli onori di casa, ringrazio il nostro ospite, il professor Andrea Marini dell'Università di Udine che ci parlerà delle neuroscienze cognitive e poi Rita Larocca di Fondazione Zoe, grazie a Fondazione Zoe si è potuto organizzare questo incontro qui al liceo Quadri. Un breve cenno alla cornice della quale questo incontro è stato inserito qui al liceo Quadri, noi siamo ormai in fase di chiusura nella settimana di Scienza Avventura, una settimana che il liceo Quadri dall'anno scorso dedica nel mese di marzo alla cultura scientifica e ai rapporti tra la cultura scientifica e gli altri settori della cultura. E in particolare alle relazioni tra le diverse discipline scientifiche, quindi sia scienze naturali che scienze sociali, con particolare attenzione poi alle frontiere della ricerca scientifica. E direi che questa tematica sicuramente rientra a pieno titolo in tutti questi argomenti. Non voglio portarvi a spazio ulteriore al professor Marini, lascio un attimo la parola a Rita Larocca che vi spiega il contesto all'interno del quale è stato organizzato questo evento. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, grazie anche da parte della Fondazione Zoe per essere qui. Volevo solo raccontare brevemente cosa stiamo facendo. Ieri è iniziata la settimana del cervello che andrà avanti fino a domenica, fino a domenica 18. L'evento di oggi è uno degli oltre 500 eventi che si tengono in Italia in questi giorni e sono eventi organizzati appunto per in occasione di questa settimana del cervello che vive in oltre 40 paesi del mondo. Fondazione Zoe è uno degli enti insieme a scuole, ospedali, università, centri di ricerca e così via. Uno dei 700 enti che in questi 40 paesi organizzano questo tipo di eventi dedicati a bambini, ragazzi, adulti, anziani, a persone di tutta l'età. Ci tengo a sottolinearlo perché in questo momento noi siamo parte di qualcosa che è molto più grande. Nel mondo sta accadendo questa cosa in questi giorni e oggi ci siamo anche noi con questo evento. Poi Fondazione organizza anche degli ulteriori eventi nei giorni successivi. Se qualcuno fosse interessato sul nostro sito può trovare tutte le informazioni che sono necessarie. Passo la parola al professor Marini, grazie a tutti. Buongiorno, grazie per l'invito. Mi hanno già in qualche modo presentato, sono molto contento di essere qui in questa bellissima città che tra l'altro ieri sera mi sono un po' girato, veramente complimenti, è una gran bella città. Allora, di che cosa parleremo insieme e di che cosa mi occupo? Io mi occupo di neuroscienze cognitive in particolare applicate al linguaggio e alla comunicazione. Vedremo cosa questo voglia dire. E nello specifico con voi vorrei affrontare una introduzione generale a questa affascinante disciplina che sono appunto le neuroscienze cognitive. Sono contento che ci sono tanti studenti e studentesse. Perché chissà che magari qualcuno, butto là un semino, e qualcuno interessato, incuriosito, va a studiare proprio queste cose. Hai visto mai? Allora, guardate questa diapositiva. Si comincia con una diapositiva un po' particolare. In fondo, quando mi viene uno che mi parla di neuroscienze cognitive, un'immagine come questa, ce l'aspettiamo, questa è un'immagine tratta da una risonanza magnetica, strutturale, una tecnica molto interessante, affascinante, che ci permette di vedere come è fatto il cervello di una persona e, con determinati paradigmi, anche di sapere come sta funzionando, quali parti del cervello vengono reclutate mentre noi facciamo qualcosa. Ma la cosa interessante è questa, questo è molto più interessante di questa. Voi direte, che c'entra? Quello è evidente che è un geroglifico. Quel geroglifico vuol dire cervello. Ed è la più antica attestazione scritta della parola cervello. Pensate che risale a un papiro di circa 1700 anni prima di Cristo dove vengono descritti un certo numero di persone che hanno avuto un trauma cranico, ovvero hanno sbattuto la testa e in seguito a questo urto hanno perso delle abilità. In particolare, di alcuni di essi si dicono cose come in seguito la botta in testa non è più in grado di andare a cavallo perché tutta la parte destra del corpo è paralizzata. Di altri si dice non ricorda più niente, nemmeno il proprio nome. Di alcuni si dice, poverini, sono muti nella loro tristezza. Riflettiamo muti nella loro tristezza. Questo è un quadro di sintomi che oggi definiamo affasia non fluente. Sono pazienti che in seguito a una lesione cerebrale non parlano più. Vorrebbero, eh? Loro hanno in mente tutto quello che vogliono raccontare ma non riescono a farlo. E queste persone che sono ben consapevoli di questa loro difficoltà guardate un po', spesso vanno in depressione. Mute, tristi, mute nella loro tristezza. Vedete che quindi queste antiche osservazioni in realtà già puntavano a un ruolo importante del cervello per il funzionamento della nostra vita mentale ma già puntavano anche a un'altra idea importante che ho lasciato tra le righe in questo inizio. Il fatto che lesioni diverse potessero portare alla rottura di abilità diverse. Roba molto antica, roba molto interessante. Andiamo comunque a vedere di che cosa parleremo insieme. La prima cosa che affronteremo sarà proprio definire la disciplina, le neuroscienze cognitive, ma anche vedere gli assunti di quello che viene definito approccio cognitivista. Vedremo quanto sia vero affermare che la mente è sempre l'ultima a sapere le cose. Fra poco scopriremo che cosa vuol dire questa affermazione. Vedremo quali sono i rapporti tra mente e cervello. Vedremo, cercheremo di vedere insieme quello che si sa oggi circa questa complessa miscela che sono i rapporti tra mente e cervello. Vedremo applicazioni riabilitative di queste conoscenze perché uno degli aspetti interessanti di questo settore di indagine è che all'aspetto teorico, se volete scientifico puro, si associa sempre un aspetto concreto, pratico, che può passare per la riabilitazione ma può passare anche per le politiche educative. Pensate agli studi che indagano, per esempio, il funzionamento di un cervello bilingue e quante informazioni possono arrivare al legislatore per poter definire delle efficaci politiche di insegnamento di una seconda lingua. Tanto per fare un esempio. E poi vedremo però sviluppi futuri, per esempio le neuroprotesi. Sono un settore in rapida espansione che porterà nel giro di non molti anni a delle cose abbastanza interessanti. Cosa sono queste neuroscienze cognitive? È una parola complessa, no? Già troviamo una serie di prefissi, suffissi, roba strana qui. Beh, cerchiamo di metterci subito d'accordo. Le neuroscienze cognitive non sono una disciplina, tanto per cominciare. È un approccio teorico di riferimento. È l'idea di voler indagare i rapporti tra i prodotti della mente, linguaggio, attenzione, memoria, controllo del movimento, percezione, quello che volete, e strutture del cervello. Questo fanno le neuroscienze cognitive, ma per farlo mettono insieme molte teste diverse, perché commentavamo prima con la collega, appunto, noi ci troviamo in un momento storico, interessantissimo, mi rivolgo ai giovani. Voi avete studiato filosofia e ho detto, oddio, no, pure qui, non vi preoccupate, vi dico perché ve ne parlo. Con la filosofia nasce la scienza occidentale. Nel tempo, all'interno della filosofia, tanti rivoli si sono specializzati. Oggi abbiamo le tantissime specializzazioni scientifiche, umanistiche, quello che volete. Il punto è che le neuroscienze cognitive, prima di essere scienze cognitive negli anni 60 e 70, sono state un tentativo fondamentale, una comprensione del fatto che io non posso indagare una cosa così complessa come la mente umana e i suoi rapporti col cervello solo da un punto di vista. Ci vogliono competenze diverse. Non è raro trovare negli studi di neuroscienze cognitive filosofi che lavorano insieme a neurologi, che lavorano insieme a biologi, a linguisti, eccetera, perfino sociologi. Veramente, credetemi, è veramente un melting pot le neuroscienze cognitive. Cominciamo con questi assunti. Cosa suggerisce questo approccio che passa col nome di cognitivista? Si parte da una definizione del concetto di mente che è una definizione operativa. Alcuni non piace, ma non importa. Il punto è che è una definizione veramente operativa, meccanica, direi, all'interno della quale i singoli assunti possono essere testati empiricamente. E se non c'è questo, non c'è scienza, ragazzi. Bisogna avere delle definizioni che siano sperimentabili, altrimenti sono filosofia, che non c'è niente di male, ma non è scienza, ovviamente. Detto questo, la mente è stata considerata a partire dagli anni 60-70, dagli studiosi all'interno dell'approccio cognitivista, come un sistema. Guardate che questa parola è importante. Sistema vuol dire che è una struttura con al suo interno una relazione, una serie di organizzazioni ben precise. È un sistema che elabora informazioni. Sulla base di calcoli nascosti, però. Questo è interessante. Cioè, questo sistema complesso elabora informazioni che possono essere, vuol dire che le riceve, le elabora, le immagazzina, le recupera. Possono essere informazioni percettive, il tatto, quello che tocco, quello che odoro, quello che ascolto, quello che vedo. Ma possono essere anche informazioni contenute in codici simbolici, altamente complessi e strutturati. Pensate al linguaggio e alla matematica. Tanto per fare due esempi fra tanti. Ora, la prima domanda che ci si è posti è stata Vabbè, d'accordo, ma sarà vero? Cioè, possiamo noi dire che la mente è un sistema che elabora le informazioni sulla base di calcoli nascosti? Se sono nascosti, noi non dobbiamo esserne consapevoli, ovviamente. Sono nascosti. Chi li vede? E allora vi racconto con due o tre esempi quanto sia vero affermare che noi in realtà non percepiamo in modo diretto l'ambiente, ma che noi siamo consapevoli soltanto di quello che il cervello ha già fatto per un bel lasso di tempo. Noi siamo in un certo senso vittime tutte di un'illusione del nostro cervello che elabora le informazioni come gli para lui. Adesso ve lo dimostro. Guardare questo esperimento, questo è un esperimento semplice, semplice. La persona si mette davanti a un computer e gli viene detto guarda, non devi fare altro che premere il più rapidamente possibile uno tra due pulsanti. E la condizione che io ti chiedo però è di premere questo pulsante se le lettere che vedi comparire sullo schermo sono uguali. Invece premi quest'altro se sono diverse. Facile, no? Quindi vedo due lettere identiche e premo uguali o se no diverse. E là si prendono i tempi di risposta. Cioè in quanto tempo da quando ho visto un'immagine ho premuto il pulsante. questo indica quanto ha lavorato il mio cervello dal momento in cui è arrivata l'informazione agli occhi al momento in cui ho premuto. Ora, l'assunto è che più tempo tradisce più calcoli nascosti. Questa è l'idea di base. Allora, la condizione di uguaglianza e differenza in questo esperimento qui si articola in vari modi. Allora, può essere una condizione di uguaglianza grafica. Io ti dico se vedi due lettere completamente identiche, due A maiuscole, due E minuscole, due F in corsivo minuscolo, ecco, se tu mi dici che sono identiche a livello visivo, premi uguali, altrimenti diverse. Vi è chiaro? No? Facile. C'è poi una condizione un pelino più complessa. Si chiama condizione di uguaglianza fonetica. Mi spiego. Ti può capitare una A maiuscola e una A minuscola. Voi converrete con me che sono lo stesso suono. Giusto? Se sono lo stesso suono in questa condizione, anche se prima avrei detto diverse, dovrò dire uguali. Poi c'è una terza condizione che è un pochino più complicata ancora perché là tu mi devi dire se sono uguali come categoria. Per esempio, ti capitano una A e una E sono entrambi vocali e mi dici uguali. Ti capitano una A e una F sono una consonante e una vocale e metteremo diverse. Vi è chiaro l'esperimento con le tre condizioni? Quindi condizione 1 identiche, condizione 2 possono essere diverse ma rappresentano lo stesso suono, condizione 3 stessa categoria o categorie diverse. Ora, vediamo gli assunti. voi converrete con me che la prima condizione è la più facile di tutte. Io ti devo dire se i due grafemi sono identici, le due lettere sono visivamente identiche. Nel secondo caso, dirti se sono lo stesso suono, se è vero che la mente elabora informazioni sulla base dei calcoli nascosti, io dovrei osservare un aumento dei tempi di risposta. Perché? Perché dovrebbe riflettere qualche calcolo in più che il mio cervello sta facendo per dire ah sì, sono lo stesso suono anche se sono diversi. Nella terza condizione in teoria dovrei vedere un aumento ulteriore del tempo di risposta. Perché? Perché devo addirittura capire la categoria. Un altro calcolo ancora. Se invece non è vero che la mente elabora informazioni sulla base di calcoli, io dovrei avere gli stessi tempi di risposta. Perché? Perché sia che vedo due A identiche, sia che vedo una A maiuscola e una A minuscola nella seconda condizione, sia che veda che ne so, un A e una F nella terza condizione, il mio cervello non deve fare calcoli nascosti. Appena vede l'informazione sa già tutto di quell'immagine che sta vedendo. Quindi il tempo di risposta sarà identico. Guardate il risultato, parla da solo. Nella condizione più semplice il tempo di risposta è di circa 550 millisecondi, mezzo secondo. Vuol dire che in mezzo secondo noi vediamo le immagini, ne comprendiamo il valore semantico, il significato, le inviamo queste informazioni a un centro decisionale che infine pianificherà quale mano utilizzare per premere. Questo ci mette 550 millisecondi. Guardate qui la seconda condizione, ci sono i 550 millisecondi necessari per fare quello che abbiamo appena visto, ma poi c'è un po' di tempo in più per fare un passaggio ulteriore, capire di che suono si tratta. E guardate che nella terza condizione, la categoria, se sono entrambe i vocali, ci metto ancora un pelino di tempo in più. Addirittura con le consonanti sfioro il secondo. Secondo voi, perché? Perché sono di più, ma vuol dire che le ho passate in rassegna tutte e manco me ne rendo conto. Ho reso l'idea? È vero che la mente elabora informazioni sulla base di calcoli nascosti. Ecco perché Michael Gazzaniga, uno dei fondatori delle neuroscienze cognitive, anni fa scrisse in un libro e ribadì in un convegno, un congresso a San Diego, tanti anni fa, mind is always the last to know things. La mente è sempre l'ultima a sapere le cose. Mente intesa come sistema di consapevolezza. Ora attenzione, guardate questa immagine, è un ulteriore esempio di quello che vi ho appena raccontato. Se voi la guardate attentamente noterete un movimento, vedrete delle ruote che girano di fatto, immagino un po' tutti la vedono, dipende dall'angolazione, ma insomma essenzialmente quasi tutti dovremmo riuscire a cogliere questo fenomeno. In realtà l'immagine è ferma. La domanda è perché cogliamo il movimento laddove il movimento non c'è? Perché questa immagine è stata costruita per ingannare il sistema della percezione visiva. voi non ci crederete ma da quando avete aperto i vostri bellissimi occhietti stamattina a adesso la metà del tempo grosso modo eravate ciechi perché i nostri occhi non colgono tutto quanto insieme ma ogni tot millisecondi si concentrano su un punto tengono in memoria quell'informazione come una fotografia dopo circa 125 180 millisecondi si spostano e prendono un'altra istantanea istantanea durante il movimento interrompono il contatto col cervello quindi al cervello arriva la prima la seconda la terza la quarta istantanea e poi il cervello assembla tutto il punto è che questa immagine sarà costruita con false concavità false convestità falsi contrasti a volte reali contrasti di colore e sarà costruita per ingannare questo sistema i vostri occhi magari vedono qua il cervello poi riceve un'istantanea qui e non riesce a integrarla con la prima e allora il cervello arriva a una soluzione non riesco a integrarli perché si deve essere mossa l'immagine pensate un po' e quello che arriva ai sistemi della consapevolezza è che l'immagine è in movimento anche se sappiamo che non è così è impressionante ci sono altri esempi questo magari ve lo risparmio anche questo però vi faccio vedere un ultimo che è molto molto particolare questa è una bellissima scacchiera potete osservare che in questa scacchiera c'è un cilindro verde che proietta una ombra ora io vi chiedo il quadrato con la lettera A e il quadrato con la lettera B sono ovviamente di colori uguali o diversi diversi e invece sono uguali chi ha detto uguali ha mentito sapendo di mentire perché non può vederli uguali però magari conosce l'immagine il punto è che si tratta dello stesso colore guardate un po' come è stata costruita l'immagine vedrete che questo quadrato qui si schiarisce a mano a mano che l'immagine si completa è impressionante perché succede questo perché noi sappiamo bene come è fatta una scacchiera come è fatta una scacchiera è fatta con un grande quadrato all'interno del quale sono tanti piccoli quadratini che si intervallano chiari scuri chiari scuri chiari scuri eccetera questa informazione stride quando vede questa immagine qui perché quell'immagine dovrebbe essere appunto eccola qui chiara e invece viene vista vedete come scura e il cervello in qualche modo cerca di dare un senso a tutto questo magari considerando il fatto che c'è un'ombra considerando una serie di informazioni che adesso non vi sto esplicitare qui non avrei il tempo ma che di fatto ingannano la mente indannano la consapevolezza ora una domanda molto interessante anzi molto importante ma è possibile in qualche modo indagare la relazione tra cervello e linguaggio guardate questa immagine questa è una vignetta tratta non da topolino o da gente oggi perché non c'è niente di male in gente oggi ci mancherebbe però è una rivista scientifica brain and language si chiama è un articolo di tantissimi anni fa dove l'autrice cominciò il suo articolo proprio con questa immagine allora abbiamo un vecchio professorone molto scaltro molto come dire con grande esperienza un giovane ricercatore un po' gobbo un po' bruttino ma vabbè qui abbiamo un fascio di non so cosa questo è un liceo scientifico come lo direte voi se hanno un senso oppure no quelle cose lì ad ogni modo immaginate che questo fascio di equazioni venga messo o funzioni non so venga messo in relazione con questo fascio di funzioni e giustamente il signore Pianziano dice beh insomma io sarei un po' più esplicito qua nel secondo passaggio come metti in relazione queste due cose c'è un miracolo è un po' pochino ecco immaginate che questo fascio di equazioni qui sia o di funzioni quello che è sia il concetto di prodotti della mente a memoria attenzione eccetera e che questo sia strutture del cervello a noi affermare c'è un miracolo se c'è qualcosa chi lo sa non basta in effetti negli ultimi anni abbiamo una quantità di tecniche che ci hanno permesso di indagare il cervello in modo sempre più approfondito e prima però io non so se avete mai visto un cervello comunque ne conosciate le strutture magari molto rapidamente vi introduco alcune delle informazioni di base del cervello che a livello microanatomico è fatto da cellule come sapete di vari tipi grossomodo le possiamo incamerare in due grandi categorie neuroni da una parte cellule gliali o della glia dall'altro e formano un supporto protezione nutrimento per i neuroni i neuroni hanno tante strutture forme tante lunghezze questa è un'immagine tipica del neurone una struttura schematica che però vi fa capire grosso modo come è organizzato è fatto da chiaramente una parte centrale chiamato corpo cellulare o soma tutto contornato da dendriti si chiamano dendron in greco vuol dire albero quindi sono ramificazioni e queste ramificazioni hanno tutta la loro superficie tante piccole spinette che vengono chiamate spine dendritiche poi c'è un appendice abbastanza lunga che viene chiamata assone che a sua volta termina in tanti piccoli filamenti che a loro volta terminano in tanti piccoli rigonfiamenti chiamati bottoni sinaptici ecco tanto per farvela molto breve il segnale nel neurone voi sapete è di natura elettrica lo scoprì Luigi Galvani ormai un bel po' di tempo fa grazie a Dio e il segnale entra sempre dai dendriti scorre lungo l'assone aggiunge i bottoni sinaptici dove questo segnale elettrico viene convertito in una molecola chimica una sostanza chimica si chiamano neurotrasmettitori perché perché i neuroni non sono in contatto gli uni con gli altri questo lo pensava per esempio Camillo Golgi che ci prese un Nobel nel 1906 studenti 1906 l'Italia prese anche un altro premio se non ricordo male per la letteratura o ricordo male le ho di Barbari ci sono insegnanti di italiano vabbè comunque ad ogni modo tra un neurone e l'altro c'è un piccolo spazio per superare questo spazio quindi vengono emesse queste piccole sostanze chimiche che raggiungono le spine dendritiche del neurone successivo e poi viene trasformato in segnale elettrico e raggiunge la fine dell'altro neurone molto rapidamente qui abbiamo alcuni esempi di scansione al microscopio elettronico di come sono fatti i neuroni che sono veramente di tanti tipi diversi vedete quanto possono essere ramificati i dendriti e quante connessioni un singolo neurone può avere nell'unità di tempo con una quantità impressionante di altri neuroni la potenza di calcolo del nostro cervello non sta nell'altissimo numero di neuroni che già è ragguardevole io non l'ho mai contato nessuno l'ha mai contato c'è una stima a 100.000 miliardi ma è proprio come quando uno dice quante sono le stelle nel cielo non è che li puoi contare però la potenza di calcolo invece viene dal fatto che ogni singolo neurone si può interconnettere con molti altri neuroni e quindi la potenza di calcolo chiaramente è estrema guardate quanti tipi di neuroni possiamo avere nel nostro cervello e che tipo di ramificazioni possono avere anche molto molto complesse detto questo a livello invece macroscopico il cervello è rivestito da una parte una struttura chiamata corteccia ricordo un po' la corteccia dell'albero ecco perché corteccia è tutta una struttura solcata da giri solchi eccetera e questa struttura a sua volta presenta al suo interno grandi solchi questi grandi solchi permettono di distinguere delle macro strutture chiamate lobby io voglio subito chiarire una cosa l'era in cui si affermava che questa area è l'area di questo quell'area è l'area di quello per fortuna si è conclusa quindi io non vi dirò questo è il lobo di questo quello è il lobo di quello io vi dirò che per esempio questa struttura che si chiama lobo frontale quindi i due lobby frontali sono implicati prevalentemente in molte cose controllo del movimento pianificazione del movimento voi direte che vuol dire se devo prendere un bicchiere molto prima di raggiungerlo il mio cervello sa come dovrà essere collocata posta organizzata la mano quindi l'atto di prensione viene codificato molto prima di toccare l'oggetto questo è un esempio di pianificazione motoria tanto per fare un esempio ma i lobby frontali sono implicati anche nella capacità di mantenere in memoria per esempio dei numeri di telefono memoria di lavoro è implicata anche nella capacità di sentire il dolore matrice del dolore sono implicati anche nel linguaggio ma non solo ugualmente i lobby parietali anch'essi sono implicati in molte cose sono implicati per esempio anche nella percezione del proprio corpo voi adesso siete tutti belli seduti non cascate per terra come sacchi di patate ma se stesse dormendo non potreste stare così che cosa cambia? cambia il fatto che mentre siete vigili e attenti comunque svegli il vostro cervello i lobby parietali in particolare ma non solo ricevono informazioni da tutto il corpo e permettono la postura di calibrare il tutto per non cadere come un sacco di patate per esempio ma ci sono altre strutture implicate in altre cose i lobby temporali servono a molte cose servono per esempio anche a riconoscere i suoni linguistici musicali melodie quando dico linguistiche beh intendo anche melodie le lingue sono melodie se ci pensate bene hanno dei ritmi pensate al confronto tra una lingua ad accento prevalentemente tonale come il cinese e confrontato con una lingua ad accento intensivo fisso come il francese che ha sempre l'ultima sillaba accentata o magari l'italiano che è un battitore libero perché l'italiano è una lingua ad accento intensivo dinamico a volte aumenta l'intensità dell'ultima della penultima della terz'ultima siamo molto liberi da questo punto di vista e poi abbiamo i lobby occipitali qua dietro che servono prevalentemente a vedere ma che vuol dire a vedere a riassemblare le informazioni che arrivano dagli occhi che badate bene non arrivano pulite non è che io vedo un ragazzo e gli obbio occipitali ah è un ragazzo eh no quello che vedo sono macchie di puntini luminosi macchie di luce sono immagini invertite a varie angolazioni e il cervello le deve prima riassemblare poi gli deve assegnare un colore che è totalmente arbitrario il colore non esiste in natura è una invenzione del nostro cervello tant'è vero che lingue diverse segmentano lo spettro del colore in modi diversi in quella lingua quella è marrone in quell'altra è arancione per esempio sono tanti esempi del fatto che noi effettivamente elaboriamo le informazioni in modo molto complesso e poi addirittura il movimento va riassemblato altre strutture ancora dei lobby occipitali di altri lobby servono a riassemblare il movimento che sto percependo poi vabbè ci sono altri lobby ma ve li risparmi altre strutture sotto corticale che tecniche si usano per indagare i rapporti complessi tra mente tra prodotti della mente e strutture del nostro cervello molte l'approccio principale che è durato dai tempi degli antichi greci degli egiziani ancora prima pensate un 4-5 anni fa leggevo Brain una delle riviste di settore che insomma leggiamo anche per tenerci aggiornati insomma che si occupa delle mie cose mi capita un articolo che parlava di tavolette cuneiformi i bambini mi sono detto ecco qua se sono sbagliati hanno messo l'articolo nella rivista sbagliata se non che in quell'articolo che parlava di questa tavoletta in cuneiforme si parlava proprio dei sintomi di quella che oggi potremmo definire una schizofrenia ed erano legati proprio al cervello quindi questo primo approccio di osservazione anatomo funzionale cioè si vedono pazienti con lesioni di un certo tipo se tanti pazienti hanno lesioni simili e perdono abilità simile allora forse l'area lesionata è implicata in quell'abilità anche nelle persone sane questo approccio chiamato anche neuropsicologico è stato l'unico possibile fino agli anni 70 quando invece le cose hanno cominciato lentamente a cambiare in realtà forse anni 50 e poi gli studi di neuroimaging che chiaramente sono molto più recenti il primissimo studio che io sappia di neuroscienze di neuroimaging è uno studio con una tecnica che si chiama PET tomografia emissioni di positroni ed è stato fatto se non ricordo male nel 1982 pensate un po' roba molto recente ci sono altre tecniche che vengono usate per esempio una tecnica molto usata in sala chirurgica si chiama si usa un termine inglese awake neurosurgery neurochirurgia da svegli il cervello decodifica informazioni dolorose provenienti da tutto il corpo ma di per sé non ha sensori per il dolore o per il tatto quindi il cervello di fatto non sente niente se tu lo tocchi non te ne accorgi e questa proprietà del cervello permette al neurochirurgo che magari è insospettito perché dice oddio devo togliere magari un tumore in un'area che potrebbe essere implicata in un'abilità importante come il linguaggio e allora con una tecnica che permette di andare a inibire singoli punti della corteccia intorno all'area da rimuovere permette anche di vedere se quelle aree sono implicate in una funzione che voglio preservare quindi non vado a togliere allegramente io no il neurochirurgo non va a togliere allegramente tutto il tessuto intorno all'area all'area appunto interessata questo è un esempio di uno studio che hanno condotto mi pare a Milano qualche anno fa era una signora una persona che parlava molte lingue una plurilingue italiano tedesco inglese francese questa signora aveva un tumore che doveva essere rimosso e come potete vedere queste garzette che hanno delle letterine che indicano le lettere indicavano i punti in cui l'inibizione bloccava la capacità di dire il nome di figure in una specifica lingua quindi se io ti faccio vedere una carota questa signora mi riesce a dire carota in francese tedesco italiano per esempio ma non in inglese perché quest'area evidentemente gli blocca quella lingua oppure se io ti blocco questa zona qui lo puoi dire in italiano inglese francese ma non in tedesco perché quell'area è bloccata ma non vuol dire che quel punto è l'area del tedesco ancora una volta vuol dire solo che quel punto è implicato in qualcosa di ben più ampio che serve poi a dire le parole in quella lingua ma non in altre altre tecniche sono quelle di neuroimaging allora detto questo i rapporti tra mente e cervello sono stati come abbiamo visto indagati da tantissimo tempo anche se abbiamo cominciato a capirci veramente qualcosa soltanto negli ultimi 20-25 anni allora facciamo un esempio immaginate che la nostra storia cominci con questa lavagna e noi anzi con quella parete e noi siamo a questa lavagna ecco la storia degli studi dei rapporti da cervello e linguaggio da quella tavoletta cuneiforme o da quel papiro fino al 2018 ecco dovete immaginare che quello che si è scoperto di questi rapporti dai babilonesi diciamo fino grosso modo all'ottocento era qui poi tra l'ottocento e la fine del novecento diciamo agli anni ottanta siamo arrivati grosso modo qui negli ultimi anni siamo arrivati alla parete e se dobbiamo andare a vedere l'ultimo decennio copriremo che lo spazio è bello lungo per farvi capire con che rapidità le nostre conoscenze stanno evolvendo anche perché queste tecniche sono sempre più adeguate sempre più sviluppate anche se molte di esse sono indirette cioè non ci dicono essenzialmente quell'area implicata in questo ma ci dicono si basano molte tecniche soprattutto quelle note come metaboliche su un'idea che tra l'altro venne identificata da un chirurgo italiano a fine ottocento mi pare a Torino questo chirurgo aveva osservato che quando i suoi pazienti che erano sottoposti all'intervento neurochirurgico magari muovevano un braccio o aprivano gli occhi in parti particolari in parti specifiche del loro cervello lui sentiva un aumento del calore ma il calore cosa lo trasporta? Il sangue noi sappiamo anche perché perché nel sangue ci sono i nutrienti per i neuroni per esempio e allora lui arriva a quest'idea dice ma non è che quando io faccio qualcosa di particolare una parte del mio cervello è maggiormente foraggiata di sangue perché quella parte sta lavorando di più questo voi capite è un'inferenza indiretta però è su queste inferenze indiretta che si basano le tecniche metaboliche conoscerete tutti la risonanza magnetica funzionale magari non ne conoscete il funzionamento ma sapete cosa fa o la PET di cui abbiamo appena parlato e anche altre ora nel paradigma quindi nello sviluppo di queste idee uno dei primi approcci è stato quello sicuramente localizzazionista che cosa affermava? affermava che fosse possibile identificare in parti specifiche del cervello abilità specifiche questo approccio è antichissimo è veramente antico perché comincia in modo embrionale proprio con quei documenti arcaici che vi dicevo poi però c'è stato un problema che fino all'avvento della filosofia greca nella Ionia e poi grazie ai persiani che sono andati a rompere le scale della Ionia questa filosofia si è trasferita in Grecia in Italia meridionale questo seme ha dato molti frutti in questo periodo si comincia a ragionare da una parte sulle strutture del cervello dall'altra sui prodotti della mente che però era vista come anima c'era quest'idea c'è il cervello e c'è l'anima pensate a Platone e Pitagora che sono all'origine dell'approccio dualista che poi è la base del cristianesimo cioè l'anima è separata dal corpo muore il corpo l'anima va via dove vada cambiano le religioni ma comunque se ne va per i fatti suoi però poi c'è un certo Aristotele grande biologo dell'antichità tra le altre cose che però qua prende un granchio bello grosso perché innanzitutto pensa che il cervello non serve a niente per la mente lui identifica nel cuore gran parte delle funzioni che oggi attribuiamo alla mente però però ha un'idea rivoluzionaria forse anche in opposizione a Platone con cui non era proprio in ottimi rapporti alla fine e l'idea era questa l'anima non è separata dal corpo è una cosa diversa ma non può vivere senza il corpo o qualcosa del genere questo approccio se non ricordo male si chiama iliomorfismo ora il punto importante qui è che questa idea che ci sia un'anima e ci sia un corpo che viene studiato da vari punti di vista si cominciano a scoprire varie strutture del cervello eccetera porterà un grande medico dell'antichità si chiamava Galeno siamo nel primo secondo secolo dopo Cristo a immaginare che l'anima esterna al corpo scorresse dentro il corpo sotto forma di un liquido e che questo liquido si andava ad accumulare all'interno del cervello in strutture molto profonde note come ventricoli sono delle cavità nel cervello e la cosa straordinaria che osserva non solo Galeno ma anche e soprattutto chi lo ha seguito immediatamente dopo è che dopo la morte dell'individuo i ventricoli sono vuoti segno che l'anima ha lasciato il corpo questo non poteva che piacere tantissimo ai padri della chiesa che stavano costruendo tante idee che avrebbero fondato il cristianesimo contemporaneo e quindi l'idea che il corpo comunque è inviolabile perché deve risuscitare ben si conciliava con l'idea di Galeno che tanto l'anima se n'è andata e tanto comunque perché dobbiamo andare a sezionare i corpi a violarli quando invece già Galeno ha detto tutto questo ha portato fino al rinascimento di fatto fino a un certo Andrea Vesalio un belga che venne a insegnare a Padova giovanissimo siamo nel 1500 nella prima metà del 1500 lo portò a immaginare fino appunto a Vesalio che tutto questo approccio fosse corretto poi però Vesalio comincia a capire che cose non stanno così bisognerà raggiungere la metà dell'800 quando finalmente si comincia a dire veramente un po' prima ah beh ma attenzione è la corteccia cerebrale che ci sta a fare qua in realtà già a fine 600 si comincia a pensare questo e nasce qui l'approccio veramente localizzazionista moderno non contemporaneo ma moderno i localizzazionisti pensavano soprattutto in Francia e in Austria durante tutto l'800 e il 900 che la corteccia cerebrale fosse organizzata in aree precise quindi quest'area serve a una funzione che so X se questa qui se quest'area è rotta vedete qua in nera quella funzione lì è sparita perché la funzione non è più disponibile l'area è rotta a questi signori si contrappongono i sostenitori di una posizione molto diversa nota come olistica per gli olistici invece il cervello funzionerebbe come un insieme integrato quindi le varie parti del cervello sarebbe tutte connesse quindi la lesione di un'area rompe un'abilità ma quell'abilità può essere recuperata perché il resto del cervello in qualche modo se ne fa carico riducendo la sua attività complessiva vi faccio notare che questo primo approccio spiega molto bene il fatto che lesioni in aree specifiche spesso determinano gli stessi sintomi in persone diverse ma non riesce a spiegare il recupero la riabilitazione se quell'area è distrutta e tu quella funzione non ce l'hai più com'è che poi la recuperi? viceversa i sostenitori dell'ipotesi olistica sostenevano che in questo modo fosse possibile spiegare il recupero certo che però non riuscivano a spiegare bene le lesioni selettive vi è tutto chiaro fino a qui il discorso? oggi che cosa siamo? oggi in realtà questo scusate è roba di altri corsi ma non ve ne parlo a voi oggi siamo essenzialmente associazionisti questa è una corrente che all'interno delle neuroscienze cognitive si è sviluppata a partire dagli anni 90 del ventesimo secolo l'associazionismo cosa suggerisce? che nel cervello le funzioni della mente siano organizzate non in modo generico in tutto il cervello come sostengono gli olistici ma nemmeno in modo troppo specifico come sostengono i localizzazionisti in particolare l'idea è che le funzioni della mente siano organizzate in gruppi di aree del cervello chiamati reti neurali e l'idea è che queste reti di neuroni magari sparpagliate in punti diversi del cervello siano però specifiche per specificabilità vi faccio un esempio negli anni 50 se non ricordo male forse un po' prima un grande neurofisiologo Donald Hebb un canadese vinse un premio Nobel perché capì essenzialmente ve la faccio molto breve forse manco troppo corretta ma comunque l'idea è questa capì come apprendono i neuroni come apprendono i cervelli vi faccio un esempio immaginate di voler imparare a sciare voi non lo sapete fare stare facendo da una settimana il corso col maestro lo guardate davanti a voi e lo seguite dopo tanti tentativi ed errori riuscite a fare quella curva perfetta come la fa il maestro ma che meraviglia vi sentite benissimo in quel momento nel vostro ah non si sente scusate in quel momento nel vostro cervello immaginate che aree implicate allora gruppi di neuroni normalmente implicati in tante altre abilità si sincronizzano fra loro magari dei neuroni in parti del cervello che controllano i movimenti del bacino delle braccia del busto e delle gambe magari gruppi di neuroni in parti che controllano le informazioni uditive lo scricchiolio della neve sotto gli sci magari gruppi di neuroni che controllano informazioni visive che mi fanno vedere la mia traiettoria magari gruppi di neuroni nella mia memoria si chiama di lavoro mi devo ricordare che devo fare questo movimento a metà curva per esempio insomma se avete capito il punto è che in quel momento io ho attivato una nuova rete neurale usando però badate bene neuroni che sono già usati in altre reti neurali per altre cose ma questa rete è nuova tutta nuova se io mi alleno quel movimento lo faccio tante volte quella rete si riattiva tante volte a un certo punto sarà automatica e non sbaglierò più è questo che fanno i grandi pianisti è questo che fanno i grandi esperti di uno sport è questo che fa chi è esperto di qualcosa ha un cervello specializzato con reti di neuroni veramente specializzate per una particolare abilità possono essere più di una ovviamente ora l'associazionismo si basa su un'idea quindi che il cervello sia tutto cablato sia pieno di interconnessioni ed è così oggi abbiamo tecniche spettacolari che ci permettono di vedere al di là dell'esame autoptico post-mortem ma proprio in vivo in cervelli sani che sono all'interno di un body scanner che è un dispositivo di neuroimaging siamo in grado di vedere tutte le fitte interconnessioni tra i lobby per esempio guardate lobby frontali guardate quante reti che vanno verso lobby occipitali parietali scusate occipitali parietali temporali abbiamo qua un esempio di lobo parietale guardate come interconnesso con l'occipitale temporale frontale e ancora strutture come il lobo occipitale che manda proiezioni e tutto il resto lobo temporale strutture sottocorticali per farvela molto breve allora quindi che cosa ci siamo raccontati fino ad adesso facciamo un po' il punto perché stiamo entrando nella parte più tecnica della nostra chiacchierata ci siamo apprezzamente raccontati questo che l'interesse sui rapporti tra mente e cervello è molto antico punto uno che la nostra capacità di indagare questo rapporto è stata avuta un'esplosione nel momento in cui abbiamo capito che la mente è un sistema che elabora in modo nascosto abilità di vario tipo lo sviluppo delle tecniche di neuroimaging ci ha permesso di capire che queste abilità di vario tipo sono organizzate in reti di neuroni in aree specifiche del cervello ma reti condivise magari in alcuni punti con altre reti detto questo parliamo di bilinguismo tanto per dire un qualcosa che è lievemente importante nella società contemporanea calcolate che al mondo sono state identificate 6.000 mi pare 972 lingue in un studio molto recente lingue non dialetti lingue ufficiali i dialetti sono lingue per la cronaca evidentemente però io sto parlando di lingue ufficiali e i paesi credo che siano ufficiali 170 grosso modo basta fare una banale divisione capiamo che in ogni paese mediamente si parlano veramente tante lingue pensiamo all'immigrazione e a tutto il resto ora una cosa straordinaria che si è scoperta negli ultimi 10-20 anni è che le persone che sono esposte a più lingue anche solo a due ma che le devono usare costantemente tutti i giorni quindi non il fatto di andare a scuola impararsi un po' d'inglese e poi non usare più no il fatto che poi quella lingua la devi continuare a usare magari in un contesto in cui devi passare dalla lingua che ti serve a quella che non ti serve questo si chiama code switching passaggio da una lingua da un codice all'altro beh noi sappiamo che chi fa questo diciamo su una base relativamente regolare addirittura ha tante di quelle reti neurali ridondanti nel suo cervello cioè più reti che servono a fare cose come il controllo l'inibizione la pianificazione la scelta della lingua perché pensateci un po' la cosa straordinaria di essere bilingui non è il fatto di sapere due tre dieci lingue è il fatto di tenerle zitte quando non vi servono voi quando parlate dovete bloccare inibire le lingue che non dovete usare il fatto di fare questo tutti i giorni potenzia questa complessa abilità al punto che indovinate un po' chi usa almeno due lingue diciamo quasi tutti i giorni e deve bloccarne una e passare all'altra frequentemente ha un ritardo nella comparsa dei sintomi del morbo di Alzheimer di circa cinque sette anni sono dati di studi canadesi perché ecco perché vedete quelle zone ambra quelle zone ambra color ambra sono vie di connessioni all'interno del cervello bene quello che vedete sono aree di connessione all'interno del cervello che in persone che usano le due lingue costantemente persone molto anziane che usano le due lingue costantemente sono molto ma molto più cablate cioè più fitte rispetto ai monolingui i grumi verdi che vedete sono invece gruppi di aree che i bilingui devono costantemente impegnare nell'inibizione della o delle lingue che non gli servono questo cosa vuol dire? dato che l'Alzheimer è una malattia si dice neurodegenerativa so che ne parlerete a brevissimo penso dopo domani forse tra tre giorni ecco venerdì e i colleghi vi parleranno di questa malattia neurodegenerativa vi racconteranno che l'Alzheimer è una malattia in cui delle placche beta-amiloidi beta-amiloidi essenzialmente ma anche altri tipi di sostanze beta-tau eccetera vanno a uccidere i neuroni quindi i neuroni muoiono ma se io per fare la funzione X non ne ho dieci ma ne ho mille prima che il sintomo dovuto alla rottura dell'area X compaia deve passare molto più tempo questo vuol dire ridondanza questo vuol dire tenere i cervelli sempre attivi questo vuol dire non ozziare perché se uno ozia il cervello si spegne è scamuffo è deboluccio se uno ha degli interessi e li coltiva quegli interessi potenziano le reti avete più ridondanze il vostro cervello è più efficiente anche a livello protettivo ora ho ancora un po' giusto una mezz'oretta se ho capito bene penso di finire anche un pochino prima così lasciamo spazzare le domande però vi voglio parlare di un filone di ricerca che è stato condotto tra la fondazione Santa Lucia a Roma dove c'è un laboratorio in neuroscienze cognitive e l'università di Udine questo è un filone è una piccola storia mettiamola così relativa alla necessità di andare a trovare reti neurali nuove per abilità antiche ma dico ancora si sa molto poco chi fra voi ha studiato un po' di linguistica a scuola o filosofia del linguaggio non so se si fanno queste materie qui forse sì forse no perché è uno scientifico quindi vedi tanto ad ogni modo dovreste sapere che il linguaggio è un sistema molto complesso al cui interno troviamo tante abilità diverse che vanno dalla capacità di produrre comprendere percepire ripetere suoni oppure gruppi di parole i sintagmi e poi le frasi o le singole parole abbiamo abilità semantiche relativa al significato delle parole poi però c'è tutta una serie di abilità che prima i filosofi e poi in seguito anche i linguisti i clinici e adesso anche i neuroscienziati stanno prendendo in considerazione sto parlando della pragmatica e del discorso cioè la capacità di usare il linguaggio in un contesto prima di andare avanti vi voglio voglio condividere con voi un brano tratto da un libro che lessi tantissimi anni fa scritto da una donna autistica e lei scriveva in questo libro io quando ero bambina sapevo di non essere come le altre bambine ma non è che mi interessasse tanto francamente il linguaggio dice per me è sempre stato fonte di grande stupore intendiamoci scrive mi è sempre piaciuto l'ho sempre capito e usato tant'è vero che quando la gente mi parlava io gli ridicevo quello che avevo appena sentito proprio per farli capire guarda lo so fare anch'io questa si chiama i colalia ma è bellissimo perché il colalia vista dal loro punto di vista il problema scrive questa autrice è che non ho mai capito a cosa servisse capito il linguaggio se non è calato in un contesto di uso comunicativo non serve a niente ma questa consapevolezza l'abbiamo capita l'abbiamo raggiunta solo 20-30 anni fa in filosofia 40 anni fa anche un certo Austin Grice anni 60 70 80 bene in neuroscienza questa roba è arrivata di fatto dagli anni 90 in poi bene tutto questo ha portato all'idea di dover trovare nuove reti neurali legate al linguaggio che però fossero anche legate alla pragmatica alla capacità di contestualizzarlo ma anche alla capacità di legare quello che diciamo quando comunichiamo il discorso appunto o il testo se scritto ovviamente ora questa storia comincia in un ambiente puramente neuropsicologico dovevamo con i colleghi del Santa Lucia in particolare il gruppo coordinato da un neuropsichiatra anzi uno psichiatra che si chiama Spalletta che coordina lì un'unità di valutazione e di riabilitazione per schizofrenici avevamo reclutato una corte di pazienti con schizofrenia e queste persone in una serie di compiti in effetti cadevano nelle abilità pragmatiche e discorsive una misura ci aveva colpito tanto che era una misura che avevamo estrapolato con i colleghi con una serie di test questa misura si chiama informatività lessicale è la capacità di dire parole pertinenti a un contesto pensateci da quando ho cominciato a parlarvi vi ho sommersi con diverse centinaia di migliaia di suoni migliaia anzi decine di migliaia di parole sicuramente migliaia di frasi ciò nonostante bene o male abbiamo tutti in mente quello che ci siamo appena raccontati chi più chi meno il punto è che siamo perfettamente in grado di cogliere all'interno di questo mare magno di informazioni questo rumore delle informazioni pertinenti e rilevanti queste sono le parole informative che voi siete in grado di percepire capire che sono importanti e incamerare nella vostra memoria chiaramente chi parla deve essere però in grado di emetterle in modo adeguato senza fare esempi ridondanti senza ridire sempre le stesse cose senza essere tangenziale per esempio raccontare cose che non c'entrano niente col punto ma che derivano dal punto in questa storia qui che vi sto raccontando una parte di quei pazienti schizofrenici che avevano partecipato al primo esperimento tornò in laboratorio e all'interno di un esperimento volto a esaminarne il livello di diciamo la volumetria il volume di varie parti del loro cervello avevamo potuto stabilire che quest'area rossa che vedete qui queste sono coordinate ma lasciamo perdere quest'area rossa che vedete qui nel lobo frontale inferiore dell'emisfero sinistro era implicata era particolarmente atrofica e atrofica vuol dire che aveva perso un sacco di neuroni questa è una malattia che può portare alla neurodegenerazione ovviamente quindi era un'area che non funzionava più tanto bene e quest'area atrofica era collegata alla bassa produzione di parole informative questo è il punto di partenza quindi una riduzione di quell'area della funzionalità di quell'area della struttura di quell'area sembrava essere legata a una maggiore incapacità di dire cose pertinenti questo è il punto voi capite che fare grandi proclami su cervelli malati funziona fino a un certo punto questo era un po' il vizio il peccato originale dell'approccio neuropsicologico classico ecco perché con il collega Cosimo Urgesi che è un esperto di una tecnica che si chiama stimolazione magnetica transcranica abbiamo chiesto ai nostri studenti universitari di venire in laboratorio questa volta a Udine e li abbiamo sottoposti a un compito che praticamente prevedeva tre condizioni in una condizione con questa tecnica totalmente non invasiva che non lascia traccia si mandano in tilt per pochi minuti i neuroni in una specifica area della corteccia cerebrale in particolare viene generato un campo elettrico che come sapete si lega a un campo magnetico genera un campo magnetico che a sua volta può essere diretto in un punto preciso andando a interferire con il collegamento tra i neuroni in quel punto questa è l'idea ora le tre condizioni erano una condizione in cui noi andavamo a inibire per quei dieci minutini l'area che avevamo trovato ma ridotta atrofica negli schizofrenici in una condizione di controllo andavamo a inibire l'area omologa cioè dall'altra parte emisfero destro stessa area da un'altra parte per vedere se c'è un generale effetto magari di stimolazione punto in una terza condizione che in gergo viene chiamata sham è una condizione di controllo dove io ti stimolo ma in realtà non ti sto stimolando cioè tu pensi di essere stimolato perché senti che la macchina si attiva ma poi la macchina viene spenta e la persona pensa comunque di continuare a essere stimolato in realtà non è così in realtà con la TMS questo non funziona sempre benissimo ma questo è un altro discorso questo è il risultato questa è l'unica tabella non vi preoccupate che vi faccio vedere ma è una tabella molto semplice da capire qui abbiamo delle misure queste persone dopo l'inibizione dell'una dell'altra o dell'area sham ognuno se le faceva tutte e tre in momenti diversi e chiaramente le condizioni venivano ruotate tra le persone per evitare un effetto magari dovuto che ne so tutti hanno avuto prima la stimolazione di qua poi di là poi di su poi di giù ecco queste persone dovevano eseguire dei compiti tra cui un compito di produzione di storie queste storie sono state audio registrate analizzate e il numero di parole prodotte l'affluenza narrativa cioè quante parole al minuto questi ragazzi riuscivano a dire e la lunghezza media dei loro enunciati in termini di parole come potete vedere non cambiamo in modo significativo tra la condizione sham non ti sto stimolando la condizione in cui ti stimolo l'area target quella a sinistra che abbiamo trovato atrofica negli schizofrenici e la condizione in cui ti stimolo l'area a destra quella o controlaterale però nonostante i livelli di produttività quindi cioè questi dicono le stesse parole con la stessa lunghezza degli enunciati con la stessa affluenza tuttavia l'informatività crollava in modo significativo tanto rispetto alla condizione in cui non ti stimolo ma pensi di essere stimolato tanto rispetto alla condizione di controllo in cui ti sto stimolando l'altra parte del cervello fino a qui vi è chiaro il discorso? quindi questa parte nel lobo frontale inferiore sinistro sembrerebbe essere implicata in qualche modo non faccio grandi proclami sembrerebbe essere implicata in qualche modo in una rete neurale più ampia che serve a scegliere le parole informative quelle proprio pertinenti abbiamo fatto ulteriori esperimenti che dimostrano che effettivamente le cose stanno così quello che vedete qui non è pubblicato ancora questi sono dati che ieri in treno ho cominciato a elaborare perché è uno studio che stiamo facendo all'ospedale di Cattinara a Trieste su un gruppo di pazienti con una sindrome che si chiama mild cognitive impairment disturbo cognitivo lieve probabilmente ve ne parleranno venerdì è una sindrome dovuta a un'incapacità di ricordare cose e alcune di queste persone possono sviluppare Alzheimer possono uno dei criteri per vedere se questo è a rischio di Alzheimer per esempio si prelieva il liquido cerebro spinale e praticamente se ci sono alte concentrazioni di certe sostanze quella persona probabilmente ha un MCI un mild cognitive impairment dovuto a un Alzheimer incipiente ora la cosa interessante è che in questo studio avevamo 28 persone con questo disturbo cognitivo lieve non dovuto ad Alzheimer un gruppo di 28 con questo disturbo dovuto prevalentemente a un'alta concentrazione di queste sostanze nel liquor quindi ancora non sono Alzheimer ma purtroppo probabilmente lo diventeranno è un gruppo di controllo persone sane la cosa interessante vi faccio vedere solo questo è che nel gruppo di questi pazienti pre-Alzheimer i livelli di informatività erano bassissimi e vedete quest'area blu? l'area blu indica che quest'area è particolarmente ipoperfusa c'è poco sangue là dentro vuol dire che quell'area non sta funzionando normalmente e guardate che area è vedete queste cifre qui? sono le stesse di prima queste sono coordinate tridimensionali XYZ che ci indicano il punto preciso nel cervello di queste persone quindi in un gruppo completamente diverso questi non sono schizofrenici ma sono futuri alzheimer probabilmente comunque MCI troviamo e anche in soggetti sani in cui quell'area viene inibita troviamo lo stesso effetto ora la domanda importante a questo punto diventa ma tutto questo può essere usato per potenziare l'efficacia di unite il riabilitativo vedete le neuroscienze cognitive come vi ho detto all'inizio sono importanti non solo per aspetti teorici ma anche per aspetti concreti come vi ho detto prima per plasmare le politiche educative ma anche per migliorare la riabilitazione renderela più efficace ora vi racconto di uno studio che è stato condotto alla Santa Lucia sempre a Roma qualche anno fa coordinato questa volta insieme a Paola Marangolo che è la neuropsicologa che dirige questo laboratorio lì alla Santa Lucia cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto a un gruppo di pazienti afasici non fluenti quindi persone che hanno avuto un ictus quindi a un certo punto non è arrivato abbastanza sangue nel cervello quindi hanno avuto la necessità di essere ricoverati in seguito all'ictus hanno sviluppato purtroppo una fascia non fluente cioè non sono più in grado di parlare in modo fluente alcuni sono muti proprio altri parlano con grandissima difficoltà e mettono suoni più che parlare ora questi signori tutti abbastanza grandi avevano già fatto un iter riabilitativo tradizionale purtroppo con scarso esito quindi questi signori erano tornati a casa molto depressi alla luce di questi studi di cui vi ho appena parlato li abbiamo ricontattati e abbiamo proposto loro di entrare in un protocollo riabilitativo sperimentale in cui senza fare promesse di alcun tipo ci ripromettevamo però di proporre loro una nuova tecnica che forse li avrebbe potuti aiutare voi capite persone che non hanno nulla da perdere vengono è ovvio io lo farei di corsa e allora questi signori sono venuti in laboratorio e la riabilitazione è proseguita in seguente modo tre cicli di dieci giorni ciascuno lunedì venerdì sabato e domenica a casa lunedì venerdì questo era il primo ciclo immaginiamo il soggetto 1 che viene per il primo ciclo il primo ciclo per questo soggetto 1 sarà che il primo giorno T1 T1 lo vedete lì vuol dire tempo 1 il primo giorno quel primo giorno questo signore viene valutato a livello cognitivo linguistica abbiamo dei punteggi di partenza poi si fa 5 giorni più 5 di una riabilitazione di natura conversazionale erano stati costruiti dei videoclip muti che queste persone dovevano cercare di raccontare in tutti i modi possibili con parole con suoni con gesti con disegni urlando non importava l'importante è che facessero capire cosa stessero vedendo e gli ultimi 20 minuti della riabilitazione della sessione quindi circa 35 minuti così poi gli ultimi 20 minuti avevano altri videoclip sempre muti da raccontare sempre così solo che li andavamo a eccitare cioè a stimolare l'area diciamo del lobo frontale inferiore e sinistro che avevamo trovato implicata nell'informatività questo per 5 giorni più 5 a T10 cioè il decimo giorno li andavamo a ritestare per vedere se c'erano stati dei miglioramenti questi signori stavano per un mese a casa poi sempre questo soggetto ipotetico 1 tornava dopo un mese altri 5 giorni più 5 di nuovo valutazione a T1 e a T10 questa volta però i 20 minutini ricevevano un'eccitazione nel lobo temporale altra struttura era un controllo questo alla fine dei 10 giorni valutazione prego c'è una tecnica che si chiama TDCS è una tecnica con stimolazione a corrente diretta è una stimolazione minima non è la 320 ecco per capirci ma è il linguaggio del cervello essenzialmente è una scatoletta costa pure pochissimo tra l'altro e probabilmente viene già usata in molti posti per la telemedicina è una scatolettina che si applica c'è una spugnettina si mette la scatolettina poi si mette una fascia per tenerla ferma si attiva e viene questa corrente lei sente soltanto una piccola lieve vibrazione iniziale ma è la cute che è passata dalla corrente elettrica poi basta non sente più niente e l'idea è che questa eccitazione possa determinare possa come dire dare una spintarella ai neuroni sottostanti a fare nuove connessioni questa è l'idea dicevo la terza condizione è SCEM quindi sempre 5 giorni più 5 si accendeva e si spegneva però il dispositivo per quei famosi 20 minuti ora questi sono i risultati che parlano da soli Broca sarebbe l'area del giro lobo frontale inferiore sinistro quella target vedete l'impennata questa è l'informatività l'impennata dell'informatività tanto rispetto al T1 il primo giorno di quando li andavamo a stimolare in questo lobo frontale tanto rispetto al decimo giorno delle altre due condizioni quella di controllo e quella nel lobo temporale dato che il linguaggio è un qualcosa in cui tutto si tiene lo disse un grande linguista all'inizio del novecento si chiama Ferdinand de Saussure parlava di questo dato che nel linguaggio dicevo tutto si tiene l'impennata dell'informatività era legata all'impennata nel numero dei verbi prodotti che è una categoria che questi signori non riescono più a produrre tendenzialmente e questo ha portato alla possibilità di riconoscere più frasi cioè si poteva cominciare a riconoscere la struttura delle frasi che loro producevano non è che tutto a un tratto parlassero come noi sia chiaro non è così però in quella cozzaglia di suoni che parlavano che producevano all'inizio adesso cominciamo a riconoscere verbi nomi e anche un minimo di struttura grammaticale prego allora questa tecnica è stata sviluppata non tantissimi anni fa è già utilizzata in molti campi nell'Alzheimer non lo so ma viene anche usata in alcuni casi per potenziare le abilità cognitive esperimenti chiaramente per il momento in persone sane recentemente si è cominciato anche sul bambino ci sono studi sulla DHD e sulla dislessia tra l'altro uno dei primi studi sulla dislessia è stato fatto proprio al Bambin Gesù di Roma al mondo quindi sono studi sono tecniche che permettono tecnologie che permettono di aiutare la riabilitazione tradizionale quanto tempo ho? 5 minuti? allora guardate vi racconto ancora qualcosina questo è uno studio che riguarda un ragazzo bilingue e vi fa capire quanto tutte le cose che ci siamo raccontati adesso vadano comunque utilizzate per far del bene appunto nel caso della riabilitazione questo è il caso di un ragazzo si chiama Alex lo chiameremo così Alex è un ragazzo italo-rumeno è nato in Romania a 7 anni si è trasferito in Italia a Cuneo e lì ha fatto tutto il percorso scolare è un ragazzo di fatto bilingue fluente in rumeno e in italiano perché il rumeno continuava a parlarlo con amici e familiari mentre l'italiano con i compagni di scuola poi in seguito i colleghi di lavoro a 19 anni trova lavoro si inserisce bene purtroppo poi fa un incidente questo incidente sarà devastante per lui entra in coma ha un trauma cranico molto importante voglio spiegarvi che cosa succede con un trauma cranico se no non potete capire questo che state per vedere quando una persona sbatte fortemente la testa perché magari fa un incidente stradale per esempio il cervello letteralmente accelera verso le strutture che lo proteggono dalla fronte meningi e altri tipi di strutture il cervello accelera e sbatte su queste strutture danneggiandosi rimbalza e in genere sbatte anche nelle parti posteriore danneggiandosi anche lì la lesione cosa fa? fa in modo che i neuroni che muoiono ovviamente ritraggano i loro assoni vi ricordate il neurone ha la parte lunga l'assone gli assoni si ritraggono questo si chiama processo di assotomia vengono tagliati gli assoni questa assotomia immediatamente è molto marcata poi però possono esserci in base alla gravità della lesione delle assotomie secondarie si chiamano che possono perdurare nel tempo è evidente che col diminuire dei neuroni e quindi degli assoni la sostanza cerebrale preme sempre di meno su quelle cavità che vi ho detto prima che sono i ventricoli cerebrali che sono gonfi di liquor quel liquor cerebro-spinale da cui per esempio che si pensava fosse la sede dell'anima nei greci e che oggi sappiamo svolge varie funzioni tra cui quella di bilanciare il cervello perché il cervello tende a collassare su se stesso ma questi ventricoli sotto pressione lo tengono in equilibrio quindi c'è una stasi il punto è che diminuendo la sostanza sopra i ventricoli i ventricoli secondo voi cosa faranno? si espandono la dilatazione ventricolare infatti è sintomo di lesione cerebrale questo ragazzo era in coma subito dopo la lesione questa è la prima TAC fatta il 12 aprile del 2009 questa prima TAC evidenza un inizio di lesione pochi mesi dopo luglio del 2009 cominciamo a vedere nelle immagini radiografiche radiologiche la destra è al contrario quindi destra è a sinistra e sinistra è a destra è un'immagine speculare quindi questo è l'emisfero sinistro e questo è il destro ci siete? vedete come si sta dilatando qua il ventricolo si chiama laterale quindi il ventricolo laterale si stava già dilatando tant'è vero che appena un mese dopo gran parte dell'emisfero sinistro era stato assorbito dal ventricolo laterale questo ragazzo nel frattempo si era svegliato dal coma erano passati comunque un tre mesi quattro mesi dall'evento il problema è che era a fasico globale cioè non usciva più né a parlare né a capire né a ripetere né a leggere né a scrivere né in italiano né in rumeno aveva enormi problemi motori era a letto non era nemmeno testabile a livello neuropsicologico poverino era un disastro la situazione ciò nonostante qua vedete la situazione intanto è evoluta nel 2013 si vede molto bene che l'emisfero sinistro non c'è ci sono dei lembi ma di fatto l'emisfero non c'è più e allora che cosa abbiamo deciso di fare questa riabilitazione è stata eseguita al centro puzzle a Torino che è collegata con l'università di Torino in questo centro puzzle la direttrice che si chiama dottoressa Marina Zettin ha capito subito l'importanza del caso allora l'ha arruolato all'interno di un percorso riabilitativo sperimentale questo ragazzo veniva se non ricordo male per tre giorni a settimana per otto ore al giorno e questo l'ha fatto dal 2012 al 2016 a un certo punto l'ASL non l'ha pagato più ma la direttrice ha detto non importa lo facciamo gratuitamente perché questa persona la dobbiamo aiutare in qualche modo è giovane non si può ecco quindi questo ragazzo con una riabilitazione massiccia questo si faceva tutti i giorni questi giorni che stava lì palestra piscina non palestra i pesi cioè tonificazione muscolare piscina anche per la postura per i movimenti riabilitazione linguistica conversazionale memoria tutto beh morale della favola metà 2016 qua c'è sempre lui l'emisfero sinistro sempre ridotto a pochi lembi in compiti in cui gli veniva chiesto di sentire dei nomi in italiano o in rumeno e di pensare ai verbi corrispondenti quindi che ne so senti volante e tu devi pensare sterzare forchetta e pensi mangiare questo si chiama generazione lessicale questo compito è interessante osservare che in questo ragazzo si attiva lo stesso epicentro nell'emisfero destro probabilmente non implicato nel linguaggio in precedenza perché lui per tanti anni è stato un affasico globale quindi il suo cervello piano piano ha riscritto le informazioni dall'altra parte però di questo non possiamo essere completamente sicuri ovviamente però ha riscritto queste informazioni nell'altro emisfero e la cosa interessante è che oggi questo ragazzo è un affasico lieve in entrambe le lingue ancora più interessante l'italiano è la lingua della riabilitazione ma il rumeno no vuol dire che il recupero in italiano si è trasferito anche alla lingua non riabilitata molto interessante probabilmente sono anche lingue simili questo non lo so però altri piccoli punti e stiamo veramente in chiusura così poi lasciamo lo spazio alle domande le neuroscienze recentemente stanno aprendo nuove prospettive è possibile comunicare con una persona in stato vegetativo? questa è una domanda importantissima anche per definire che cosa fare con questa persona ora un esario di esperimenti che sono stati condotti nel tempo hanno dimostrato che quando persone diverse pensano alle stesse azioni si attivano varie aree ma alcune di queste aree sono condivise tra persone diverse questo è un esempio di persone che pensano all'atto di colpire la palla mentre giocano a tennis cioè il momento in cui dici pensa di fare uno smash ma il momento in cui proprio la racchetta colpisce la palla devi pensare a quel momento preciso bene nelle persone si attivano varie parti del cervello tendenzialmente però quest'area si attiva in tutti la vedete persone sane è interessante vedere che i pazienti in stato vegetativo a cui viene chiesto di immaginare la stessa cosa si attivano le stesse aree anche se vedete che i cervelli sono un pochino più compromessi un'altra azione di cui si sanno molte cose è per esempio immaginare di camminare per le stanze di casa propria e anche qui si attiva un mosaico di aree che però tendenzialmente sono simili tra persone diverse vedete questo è un esempio di una persona sana questo è un esempio della stessa rete attivata in una persona con un trauma cranico molto importante che l'ha portato in stato vegetativo ma la cosa interessante è questa si è capito che se io chiedo ad alcuni non a tutti ma a alcuni di questi pazienti di immaginare di giocare a tennis se lui si attiva la rete per il tennis o di immaginare di camminare per le stanze di casa propria e gli si attiva un'altra rete quella per camminare per le stanze l'idea geniale che è venuta a questi ricercatori Owen ha fatto una revisione in questo studio è stata di chiedere a questi pazienti guardate che non rispondono questi stanno lì fermi immobili a volte possono avere gli occhi aperti ma è come se non ci foste voi davanti a loro e gli dicevano ora ti farò delle domande se la tua risposta è sì pensa di colpire la palletta da tennis se la tua risposta è no pensa di camminare per le stanze di casa tua scheda Thomas e lui che cosa pensa a colpire la palla da tennis sì o si chiamava Alexander non è vero e lui a che pensa a camminare per strada vedete qua il ventricolo quanto è grande le dilatazioni ventricolari ultimo argomento sono le neuroprotesi questa è una delle frontiere più interessanti delle neuroscienze cognitive che stanno sempre di più cercando di interfacciare macchine e essere umano ma non per fare cose mostruose ma per per abilitare persone non più in grado nemmeno di camminare di fare cose che per loro fino a pochi minuti prima erano impensabili guardate questo allora no non lui ma questa questa signora è soffre di tetraparesi spastica non è assolutamente in grado di controllare niente del suo corpo vedete questa scatoletta che è in testa è collegata a un jack è collegata a un sensore che gli è stato inserito nella corteccia motoria con gli occhi e questo jack questa signora pensa di muovere questo braccio meccanico per bere ed è quello che succede cioè trasferisce il suo pensiero al braccio meccanico che non vuol dire telepatia questa vuol dire che quando io penso di muovere un braccio meccanico alcune parti del mio cervello si attivano ma sono quelle che muoverebbero il mio braccio non so se ho reso l'idea questa informazione viene data a un computer che ha questa informazione nel suo database e sfruttando anche gli occhi e tutta una serie di informazioni fa eseguire all'automa il movimento che la persona ha immaginato questo è uno dei tantissimi esempi di applicazioni ci sono applicazioni per la vista i non vedenti chiudo così se ne volete sapere più c'è questo qui che cosa sono le neuroscienze cognitive che è un po' più generale questo è più sul versante della linguistica della comunicazione se vi interessa saperne di più sui correlati neurali della comunicazione del linguaggio detto questo io vi ringrazio per l'attenzione se avete domande sono qua applausi abbiamo grazie professore per il bellissimo intervento c'è qualche minuto per le domande se qualcuno vuole nel caso del ragazzo rumeno alla fine non ho nel caso del italiano rumeno che importanza alla fine non ho capito esattamente che importanza c'era nel fatto che lui fosse bilingue cioè se non fosse stato bilingue cosa c'era di diverso no la cosa interessante del bilinguismo in questo ragazzo è che è stata riabilitata una sola lingua ma questa riabilitazione si è trasferita sulla lingua non riabilitata questo è l'aspetto interessante cioè vuol dire che io ti posso riabilitare una funzione in alcuni contesti e questa funzione potrebbe a sua volta innescare meccanismi di compenso su funzioni similari questa è l'idea importante perché vedete in una società multiculturale come la nostra in cui il bilinguismo ormai fa parte della nostra società in realtà ne ha sempre fatto parte perché anche i dialetti sono lingue come dicevamo prima però in una società come questa in cui magari io clinico mi trovo un paziente con una botta in testa magari parla solo rumeno e magari albanese e qualche parolino italiano come lo valuto come lo riabilito cioè questi tipi di studi servono a saperne di più su questo versante servono anche però a saperne di più sull'insegnamento perché c'è tutto un filone di cui non vi ho parlato che è la neuropedagogia delle lingue cioè pedagogisti dialogano ormai con le neuroscienze come si insegna una lingua per esempio sicuramente non si deve insegnare con i libri o quantomeno non solo con i libri in un ambiente artificiale il modo migliore per acquisire una lingua sappiamo da studi di neuroimaging psicologia eccetera è quello di usarla la lingua di avere un insegnante che ti entra in classe fa finta di non parlare italiano e con i suoi studenti usa solo la lingua che deve usare con loro e loro a quel punto poverini disarmati dicono io uso quello o mi attacco e mi butto dalla finestra e quindi devono usare quella lingua questo è un altro esempio di un'applicazione non da quello studio ma da studi di tipo molto simile che indicano proprio questi aspetti del bilinguismo che sicuramente abbiamo anche visto è un potente fattore di protezione per il decadimento cognitivo mi ha interessato particolarmente il rapporto che lei ha stabilito fra il bilinguismo e la comparsa del Parkinson mi sembra che abbia detto che una persona che usa usa costantemente due lingue e interrompe e quindi certi circuiti io adesso non uso un linguaggio tecnico professionale comunque penso di farmi capire da lei una persona che usa continuamente due lingue e quindi ha questo stop e questo inizio nel cervello di processi di processi è in un certo senso favorita nella nel salvaguardarsi o nel ritardare certe patologie come il Parkinson io le chiedo è lo stesso no mi pareva che aveva detto l'Alzheimer e io avevo capito il Parkinson comunque è sempre una malattia neurodegenerativa sono sempre malattie affini e che certi circuiti che vanno attivati allora io le chiedevo è lo stesso nel bilinguismo quando due lingue sono simili per strutture per suoni oppure quando due lingue sono completamente diverse come sintassi grammatica come semantica c'è una differenza oppure è la stessa cosa? allora le risponderei in modo molto onesto non lo so nel senso che so che ci sono degli studi che cercano di capire l'effetto della struttura di una lingua su un'altra so che ne sono stati fatti tanti sull'apprendimento attraverso la nozione di transfer positivo o negativo dalla lingua che conosco la lingua che devo apprendere effetti di questo tipo sulla protezione cognitiva chiamiamola così non lo so se ci siano può essere di sì può essere di no io consiglio sempre chi è interessato a questi argomenti di andare su un sito www.pubmed.com è l'organo del ministero della salute americana americano che praticamente ha al suo interno un motore di ricerca da cui potete accedere agli estratti di qualunque articolo mai fatto su un argomento di medicina psicologia o affini di alcuni articoli addirittura potete scaricare il pdf perché sono ad accesso libero quelli non accesso libero vi dovete limitare quindi se lei va su questo sito in inglese però digita delle parole chiave www.pubmed.com o .org adesso non ricordo comunque basta che mettiate pubmed e trovate pubmed tutto attaccato e lì mettete delle parole chiave potete vedere se sono stati fatti studi su quell'argomento specifico che vi può interessare prego c'è una ragazza quale do la parola anche a lei salve no in realtà a me aveva abbastanza incuriosito il rapporto tra linguaggio e percezione diciamo e aveva detto insomma mi ero segnata una frase che appunto in cui diceva che lingue diverse hanno nomi diversi per lo stesso colore e quello che mi stavo chiedendo è il percetto è diverso in queste persone oppure è semplicemente una questione nominale cioè di categorizzazione del colore e allora però cioè perché capisce bene che se percepiamo in modo diverso il percetto è lo stesso ma il ok diciamo è una questione di consapevolezza non di percezione nel senso guardi c'è anche una ragazza lì che da prima aveva provato poi dopo le diamo la parola no no faccia lei poi dopo però lei poverina sta là da mezz'ora dicevo questa cosa vale non solo per la percezione dei colori vale per tutto cioè dovete capire quello che si sa adesso della neuroscienza e della comunicazione per esempio è che quando noi vogliamo dire qualcosa la prima fase non è linguistica ma è preverbale noi generiamo un messaggio facciamo un esempio io vi voglio dire oggi la mia bambina è andata a scuola no voi non sapete nulla di mia figlia non sapete nulla di quella scuola io però so tutto della mia figlia e so tutto della scuola ovviamente vuol dire che io a livello concettuale ho tirato fuori un'idea spostarsi da un punto A origine casa a un punto B scuola agente dell'azione tutto quello che so di mia figlia poi però ho usato la parola bambina ma la parola bambina in italiano è molto molto ambigua perché voi non sapete questa bambina quanti anni ha ne ha tre ne ha otto ne ha quindici magari sono uno di quei genitori che chiamano bambine pure a vent'anni no per carità ecco evidentemente questa ambiguità tra percezione diciamo tra consapevolezza e quello che abbiamo in testa è un'abilità su tutti i livelli fornita dalle lingue il bilingue è molto fortunato non solo per i motivi dicevamo prima ma perché vede il mondo letteralmente con occhi diversi perché è consapevole di più cose pensate a un concetto come quello che in tedesco lo definiscono gemütlich in inglese è cozy in olandese lo chiamano gesell perché è sempre una lingua germanica e in italiano non c'è ve lo spiego è quando state a casa fuori piove avete il gatto la copertina focherello acceso cioccolata calda e chi sta meglio di voi state veramente bene in quelle lingue germaniche che vi ho detto c'è una parola per rendere questa in italiano dobbiamo usare un giro di parole ecco questo è un altro esempio prego buongiorno io volevo chiederle se è possibile pensare di utilizzare le neuroscienze cognitive per ridurre l'enzima che inibisce o comunque rallenta i processi cognitivi nella tresomia 21 nella tresomia del 21 questo è un disturbo di natura genetica che ha tutta una serie di conseguenze non ci sono tecniche che stimolino purtroppo in questa fase ancora c'è una riabilitazione essenzialmente tradizionale comunque è un disturbo molto raro e quindi anche per questo gli studi ci sono però se lei va su quel sito che le dicevo e metta è molto raro aspetti che sto dicendo ho confuso le due sito stiamo parlando della sindrome di down qua tresomia del 21 caspiterina non si sente scusate in quel caso allora le posso dire che ci sono numerosi studi sui processi neurobiologici all'origine del potenziale disturbo comunicativo e cognitivo in generale stimolazione con la tdcs non mi risulta che sia stata ancora fatta su persone con sindrome di down sicuramente è un ambito di indagine su cui si sta lavorando molto però anche perché l'aspettativa di vita adesso è alta e purtroppo in molti casi porta ad alzheimer quindi bisogna sicuramente lavorare sulla qualità di vita di queste persone che comunque hanno sempre più maggiore aspettative di vita ecco il primo test a cui lei ha accennato scusi posso? prego allora il primo test a cui lei ha accennato sui calcoli nascosti della mente mi ha fatto venire in mente Piaget Piaget è un noto psicologo che tra le tante considerazioni fatte ha accennato al fatto rilevato che prima di accettare una novità ci vuole molto tempo cioè la specie umana sarebbe caratterizzata da un lungo lasso di tempo prima di accettare e che si diffonda ora mi è venuto in mente oggi si è trattato anche del clima prima che si accetti l'idea di un cambiamento di modi di vivere quanto passerà riusciremo a farli in tempo prima che i gradi di temperatura aumentino poi un secondo brevissimo punto è che qualcuno forse farà il ricercatore sceglierà ora tutte le ricerche e tutte le scoperte possono avere un lato negativo c'è un lato oscuro cioè Bacone ha detto knowledge is power la conoscenza è potere quindi la conoscenza è il progetto brain lei sa che c'è un progetto nord americano è un progetto europeo per la ricerca sul cervello i processi cognitivi il pensiero è la famosa coscienza cosa sia la coscienza ora questo può essere usato bene o male come tante altre scoperte e qui chi è un ricercatore dovrà fare i conti anche con il lato etico di queste cose sicuramente ecco penso che sia valga la pena è una riflessione sicuramente correttissima allora per il primo partiamo dal secondo il secondo aspetto etico è sicuramente corretto questo non è un caso che la scienza ha dei canoni molto rigidi poi c'è chi come dire li bypassa ma quella è una scienza pericolosa per esempio una cosa che noi dobbiamo sempre fare prima di avviare una ricerca è avere un comitato etico che la approvi il comitato etico è un comitato serio fatto da personalità molto diverse se si va dal filosofo al medico allo scienziato al pedagogista allo statistico e questi insieme di persone fissano i paletti di quello che quella ricerca potrà fare e non dovrà fare quindi da questo punto di vista diciamo che l'organo di vigilanza è quello che richiede questo aspetto vi faccio notare che per pubblicare su qualunque rivista importante io parlo di riviste seri chiaramente non del giornalino dove pubblicano la qualunque come si vuol dire per pubblicare bisogna sempre dichiarare e sono dichiarazioni legali di aver avuto un progetto approvato da un comitato etico e di averne seguito rigorosamente le istruzioni se poi ti chiedono i documenti e tu non ce li hai il tuo articolo viene rimosso e tu sei fuori dalla comunità scientifica quindi questa è la prima parte la seconda parte invece riguarda l'inerzia sociale più che il cervello umano nel senso che come tutte le cose noi siamo società molto complesse fatte da tante teste il nostro periodo storico è un periodo che vede teste di un certo tipo dettare legge c'è stato un periodo in cui sono state altri tipi di teste l'inerzia sociale va anche in queste direzioni è un divaga ora chiaramente il cambiamento climatico è un problema serio e attualissimo lo vediamo lo testiamo con mano purtroppo è anche vero che però ha dei costi e non tutti sono disposti a assumersene carico il problema qua è più che altro appunto l'inerzia sociale e secondo me anche un po' di ignoranza purtroppo adesso va tanto di moda questo termine fake news non capisco perché bisogna sempre usare parole inglesi notizie false ci sta la parola usiamola queste notizie false che ormai nella rete girano ecco qua per esempio mi rivolgo veramente a voi ragazzi attenzione a quello che mettete in rete a quello che prendete dalla rete primo perché non c'è spesso controllo su quello che prendete e poi perché perdete il controllo su quello che mettete quindi questa è una riflessione generale se voi dovete avere informazioni vi faccio un esempio speriamo non succeda mai se una persona dovesse avere una malattia e uno va a affidarsi soltanto alla rete è meglio che non lo fa perché trova tutto è il contrario di tutto bisogna sempre usare la rete in modo consapevole e tutta la questione che abbiamo avuto negli ultimi anni sull'ecologia ma pensate anche ai vaccini e tanti altri punti molto dibattuti nel nostro panorama politico la dicono lunga su quanto purtroppo in Italia l'alfabetismo scientifico sia un po' come dire stia facendo qualche passo indietro meno male che ci sono fondazioni come quella che ha organizzato questi eventi che invece permettono di dialogare tra chi fa ricerca e chi è interessato alla ricerca so che non le ho risposto direttamente ma sono domande complesse a cui una risposta singola non si può dare secondo me purtroppo prego buongiorno a me è affascinato il discorso che ha fatto sulla ripetizione di qualcosa per apprenderla bene ha fatto l'esempio dell'imparare a sciare io mi occupo di educazione e quindi mi affascina molto il modo con cui i bambini apprendono in particolare ho posto l'attenzione molto sulla reiterazione sulla ripetizione di qualcosa che fanno proprio per consolidarla del tutto e volevo chiederle se ha qualche suggerimento di qualche libro o di nome di qualche suo collega che si occupa in particolare di questo per approfondire il tema per capire proprio a livello cerebrale dei neuroni delle sinapsi cosa succede nella ripetizione beh qualcosa di specifico su questo no però so che vari editori in particolare Mulino e Carocci però il Mulino e Carocci hanno delle linee psicologiche molto interessanti e là dentro sicuramente troverà manuali sull'apprendimento e là sicuramente trova anche informazioni specifiche sui meccanismi di ripetizione che chiaramente è una parte dell'apprendimento e che chiaramente poi si sposa con un altro grande problema che è quello delle capacità imitative degli individui perché imitare vuol dire simulare eppure qui nella comunità scientifica non c'è ancora un punto fermo su quanto nell'apprendimento sia passi attraverso una imitazione e quanto nell'apprendimento e nella comprensione passa attraverso una simulazione di quanto viene appreso quindi sono argomenti chiaramente molto variegati che comunque manuali di aguardi di psicologia dell'apprendimento li trova sicuramente quindi scusi ha detto il murino il murino carocci ma anche un altro bellissimo editore ma si può dire ma si dai si può dire è Raffaele Cortina Raffaello forse Cortina editore che ha delle bellissime monografie anche di natura psicologica e neuroscientifica se lei si va a fare un giro nei cataloghi sicuramente troverà libri divulgativi o manuali universitari che vanno dritti al punto che le interessa c'è un'ultima domanda allo spazio solo per l'ultima domanda prima di chiudere scusi i neuroni invecchiano prego i neuroni invecchiano nei bambini ormai hanno questa facilità di apprendimento nelle cose tecnologiche che gli anziani non hanno scusi non la sento ripeto io chiedeva se i neuroni invecchiano e come mai i bambini invece hanno questa facilità di apprendimento soprattutto delle tecnologie che risultano complesse per le persone più anziane certo allora fino a non moltissimo tempo fa si sapeva che i neuroni non potevano essere rigenerati adesso sappiamo che in alcune parti del cervello la rigenerazione c'è certo un cervello anziano è un cervello anziano anche dal punto di vista cellulare c'è da dire che un modo molto interessante per ridurre l'avanzamento di questi processi di neurodegenerazione è sicuramente come dicevamo prima tenere il cervello sempre allenato nel caso dei bambini i bambini è vero apprendono più facilmente anche se hanno una lesione cerebrale sono molto più resilienti nel senso che rispondono meglio al recupero hanno un recupero più veloce più efficace perché la risposta è prevalentemente ce ne sono tante ma una di quelle che vorrei trasferirla adesso si chiama non specificità cioè quel cervello non è ancora costruito come quello di un adulto quante volte avrete sentito affermare il linguaggio è nell'emisfero sinistro affermazione sbagliata tra l'altro beh uno partendo da quest'idea potrebbe pensare che nel bambino appena nato le strutture che nell'adulto permettono di parlare siano le strutture anche nel cervello del bambino che gli permettono di parlare non è così perché il cervello si deve organizzare un po' alla volta evidentemente nel bambino i processi che porteranno alla specializzazione richiederanno diversi anni quindi fin quando il cervello ha ancora una certa dose di plasticità naturale chiamiamola così cioè è ancora molto malleabile chiaramente il bambino può apprendere molto rapidamente poi ci sono altri processi ancora che si chiamano di mielinizzazione ma forse non abbiamo il tempo adesso di entrare comunque essenzialmente uno dei punti fondamentali è questa aspecificità del cervello del bambino che si deve ancora strutturare e quindi è più resiliente e apprende più facilmente sì sicuramente perfetto ringraziamo il professor Marini e grazie anche a tutti voi